Elias Magnus Fries è stato un botanico e micologo svedese vissuto tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Fries nacque il 15 agosto 1794 a Femke e morì l'8 febbraio 1878 a Uppsala, città dove fu professore e rettore dell'università nel 1839 e nel periodo che va dal 1853 al 1854. Elias Magnus Fries era figlio di Sara Elisabeth e del decano Tore Fries, il parroco di Fenjo, un piccolissimo centro nello Smoland. Fries è conosciuto soprattutto per il suo lavoro sistematico sulle piante, riguardante specificamente i funghi. Il sistema Micologicum, diviso in tre parti, è pubblicato tra il 1821 e il 1832 ed è universalmente considerato come uno dei fondatori della Micologia Moderna. Esiste un suo ritratto, un mezzo busto, realizzato da Johann Gustav Sandberry nel 1838 che è conservato al castello di Gripsholm nella collezione di ritratti dello Stato. Fries originariamente studiò botanica all'università di Lund e fu allievo di Anders Johan Rezius e Karl Adolf Agard. Divenne quindi professore associato di botanica a Lund nel 1814 e nel 1819 ottenne la posizione di professore aggiunto di botanica. Nel 34 la Solund per Uppsala dove ricevette la cattedra di economia pratica e dal 1851 ottenne la cattedra di botanica ed economia pratica fino a diventare responsabile del giardino botanico e del museo di Uppsala. Il lavoro di Fries sui licheni, lichenografia europea reformata del 1831, gli valse il conferimento della Gran Medaglia d'Oro di Linneo. Elias Magnus Fries sposò nel 1832 Cristina Wieslander, la figlia di un parroco. Il loro figlio maggiore Theodor Tore Magnus Fries divenne professore di botanica mentre i loro altri due figli, Elias Petrus e Oscar Robert, studiarono entrambi micologia. Il figlio Elias Petrus e la figlia Susanna Cristina furono entrambi anche degli abili disegnatori e crearono una serie di tavole micologiche originali che oggi sono conservate a Uppsala. La famiglia Fries viene solitamente indicata come la famiglia Fries della botanica. Infine, non bisogna confondere Elias Magnus Fries con Magnus Fries, un quasi omonimo professore di botanica sempre dell'Università di Uppsala ma vissuto tra il 1917 e il 1987. Se questo video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e lascia un commento. Grazie per avermi seguito, a presto!